sono nella magnifica piazza di moneglia allora quella lì è la stazione questa qua no quella lì è l'aurelia questa qua la stazione più indietro io vado a fare il bagno lì ok lontano da questa questa schifezza qua perché qua non guarda niente c'è il piumicciattolo quello che riversa tutte le schifezze adesso c'è il solito gabbiano adesso è già scappato praticamente farò il bagno lì metto lì lì dove ci sono i pedaloni l'acqua è freschissima no 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 calda comunque anche se sono le quasi le 7 e adesso metterò lì c'è anche un castello lì 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 lì